Davide! Grazie! Allora, primo grado che facciamo insieme, sentite proprio FLE con il nostro disco. FLE con l'attrezzo a gritto, sentiva il frumento, battere il frumento, il dialetto si dice a scorreggiare il frumento per tirare fuori gli ultimi chicchi di grado. Bisognava battere una terra e quindi altrimenti ci si doveva fermare e di partire da capo. Quindi questa sera non lo facciamo, nella speranza di riuscire ad andare fuori. Grazie ancora Davide! Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.